Su queste due piastre esagonali lo lancerà Leo, mentre Sara per favore no, chi siete? No, Luca, Luca, dimmi lo zombie lento. Mi va sempre bene. No, abbiamo uscito anche lo zombie, benissimo, faremo un round. Prima, sì, prima Leo potrei cominciare il round lanciando la quantica. LOL. Quando facciamo il round? La facciamo qua se ci riusciamo. Siamo scherzati, però non si può vivere. Di tutto che si può girare. Ma nessuno avanza un proiettile? Non giriamo, ci sbagliamo. A secco? Bene. Farà? Li farò a pezzi. No, dai. A mani nude. Questa testa! Sto tipo non ci arriva la testa, dai, non è possibile che mi ha mosso senza testa. Dai, Riani, ma non io ti copro. Che falle. Strano. Ero sicuro che ormai lo sapessero tutti. Con Dempsey non si scherza. Grazie. Ossi attaccare il dottore? Venite a morire! Venite dal dottore! Machina montana, mangia questa merda! Mico dietro! Ammattolo, ammattolo! Ho funzionato! Ora passiamo alla fase 12. Fatico, Slavin. È stato bello. Sei morto. Cioè, noi siamo dietro e siamo quelli che non sono il giagato. Cioè, siamo quelli che restiamo. Ok, ragazzi, dobbiamo fare lo zoppo. Lo zoppo non uccidere nessuno! Niente scherzi, bastardi! Gli ho fatto saltare un braccio! Oh, sono un russo felice! Io ho la rega! Lontano da me! Via dagli stivali, viscidone! Ah! Mi muoce le gambe! Una fonte di dolore! Venite a morire! Venite dal dottore! Mangia questa merda! No! Dove sono i miei compagni ammazzazzombi? Si perdono il divertimento? Il round non finisce! Il round non finisce! Il round non finisce una letta! Ehi, questi sei saldi! Che culo di merda! I saldi, dice! Sì, adesso i saldi, ragazzi! Temore! Per ucciderti mi basta un solo braccio! Annientamento! Perché mi hai colpito? Ho chiesto una parola! Sono secco! Completamente! Non uscidete nessuno! Leo, non uscidete nessuno! Non uscidete nessuno! Non uscidete nessuno! Non uscidete nessuno! Lei è morto! Non uscidete! Non uscidete! No, Leo! Non uscidete! Non uscidete! Veloce! Prima che perdere le vetità! Non portarmi così! Me la capo avrei visto! Leo, 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 per favore! Che non sape, ragazzi! Ok! E... Mentre voi... Voi fate... Allora, adesso... Adesso... Dove ho munizioni al massimo? Quando serve! Quello che farà Rick Tuffen dovrà mettere... La verga qua dentro! Leo, dove sei? Ok! Adesso quello che sarà Rick Tuffen... Leo, vieni qua! Muoviti! Quello che sarà Rick Tuffen... In questo caso è di Rick Tuffen... Non proprio... Il coso che si chiama così! Oggi sono cascato, un attimo! Dovrà mettere la verga, dovrà spingere quadrati in mezzo a quelle due piaffre! Niente munizioni! Niente divertimento! Niente divertimento! Quando verrà verde! Perciò Luca, te ti... Luca, te ti lo gioco! Stai giù, cazzo! Registra le voci! Registra il discorso! Leo! Prendi questo! Temere senza gambe! Sara, va a registrare il discorso veloce! Leo, ti muovi! No, dai! Io vi f***o l'audio! Non te comprendevi! Niente colpito! Registra il discorso! Ti tienilo lì! Ok, dove devo fare la cassa? Ma che agitiamo, ragazzi? Aspetta, che se non mi colo più... Io devo metterla giusta la verga, se non me la stai mai a far mettere però... Ragazzi, perché non abbiamo il tubo? Beh, posso sempre usarla come martello! Che si trova nei laboratori... Eh, mi sono dimenticato del tubo... Mi devo finire il... Subito! Io rimango per dentro? Eh, sai, ci cerca di rimanere l'occhiappo io se ce la faccio... Lo trovo... Voi rimanete lì, se lo trovo, ok... Se non lo trovi... Non lo trovo, sono tornato... Comin'era! E se Rob, Killer, Leon è morta... Eh, la Sara lo... Sì, continuate a tenerlo al dopo mentre Sara lo salva... Sono tornato dalla fossa... Takeo ti deve un favore... Eh, dopo lì siamo un po'... Ciao scatrice, ragazzi... Ma ragazzi, si è rotto... Merda, si sono rotti i viti... Perciò vuol dire che... Ok! Chi vuole scambiare l'arma con me? È piena di munizioni, lo giuro! Ma poi non è nemmeno fuori... Ah, la gamba! No, 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 no... E le munizioni... E il tuo divertimento... Guarda, sei maleducata però, eh... Cavolo! Sono le gocciole! Extra d'arte! Le buone! Extra d'arte! Beh, posso sempre usarla come martello! Abbiamo tutte e due... Sia quelle normali che quelle extra d'arte! Bene, ora il problema è trovare il tubo... Benissimo, è fuori sarà... Sarà fuori... Il tubo sarà fuori... Dove sei, tubicino? C'è tubicino? Io sono qui per te... Vieni, bello zio! Senti qua, tubicino! Un pezzo di cavo! Vabbè, per cui regalare la roba elettronica! L'ho preso! Sono solo un fottuto pro, lo so, sono un fottuto pro, lo so, lo so... Che cura! Sto arrivando! Sto arrivando! Sono un fottuto pro, era fuori, come diceva Andrea... Fortuna che Andrea gli era capitato quella volta... Se no non avrei mai immaginato che era fuori... Comunque... Ragazzi, voi sfatete tanto, sfatete tanto... A me non sono che l'avessi più morti, eh... Ho capito... Hai capito tutto! Ah, non ho capito tutto! Sì, l'ho preso! Leo, l'ho preso, l'ho preso! Dai, vieni qua, dai, muoviti! Sì, quello che c'ha più colpa da destra, più chi... Più tutto, ragazzi! Più colpa da destra, non fa poco, perché adesso un attimo sto... Mi sto... C'ho l'emunizione scarica dei Galil, se no te avrei fatto già il culo! No, fidati, sono più bravo! Fidati! Oh, sembra collegato! Bene, li ho collegati! Ora, Leo, Sara, registrati, veloci! Aspetta, sto arrivando, siccome lei mi ha abbandonato... Passate dal tu... Ok, pensavo che hai passato dal tunnel 6... No, no... Ok! Chi vuole scambiare l'arma con me? È piena di munizioni, lo giuro! Siamo pronti, vi muto, ci vediamo dopo! Anche te, Leo... Eccellente! Può tutto secondo i miei piani! Dai, lascia la cosa che abbiamo bucato! Login, Teddy, password e un bugiardo! Luca, visto che ci sono taccato le mani con la rete, l'ispira tutto bene! Sì! Come va la scuola? Ho sentito come va la scuola... Però... Eh, come va la scuola? Esatto, come va? No, no... Che succede? Che succede? Sì o no? Segui una scansione in cerca di H! Sì, però è un nemico che gliel'ho già promesso, quindi... Ok, in due, dai, va bene, va bene, ok, ci sto... Oh, va bene? Io te l'ho detto il tuo amico prima, perché ti ho scambiare tutto prima, però ci sono anch'io, grazie Luca! Beh, perché volevo Newtown Zone, soprattutto, Newtown 2020, però mi interessa... Oh, grazie, Luca! Oh, mi raccomando, ricordatelo, eh! Io te lo ricorderò oggi, una volta che ti vedrò online... Sì, grazie... Sì, grazie Luca, ti voglio bene... Eh, Luca, è da voi la cassa? Sì, è qua... Ah, ok, devo venire la cassa... No, non tanto manca la tenda di spregge... Ah, ma sono arrivati a metà... I computer finali, mancano... Ehm... Adesso manca, riempire i computer... Via, è lei, la forza del via! Ok, chi vuole scambiare l'arma con me? È piena di munizioni, lo giuro! Allora, mi ricordo ancora... È fatto solo... ...migliardi di volte con l'onda con l'andere... Cancellare! Chi è che mi dà 500 punti? Sì, sì! Cioè, mi dà un po' di punti per chi ha fatto il Zagger? C'è Luca, vero? O Sara... Luca, Luca, ti stupro! Poche munizioni! Pensa, Nicolai! Pensa! Ok, ci sono! Aiuto! Sono secco! Sì o no? È mio! Finalmente! È mio! Ecco, finito! Bene! Chi è che mi dà 500 punti che devo avere i punti per il Zagger? Sara! Sara, mi devi incisi per il Zagger? Sì! Sì! Dopo andiamo dal Zagger adesso! Ok, adesso andiamo a riempire i tuoi! E questa è la roba che mi dai! No, deve andare sulla terra! Non importa! Takeo è inarrestabile! Scusa Luca, però deve andare sulla terra perché io e lei ancora non abbiamo i punti! Non abbiamo il Zagger! No! No, non ci siamo andati! Questa Sara si mette in quei puntini! Bene ragazzi! Ora adesso prenderemo... Adesso prendiamo l'acremi, andiamo a prendere il Zagger e poi continuiamo l'istrag! È qua! Vieni! Aspetta! Veniamo nella serra, va! Ok! 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 Sto fermi, sta toccando! Eh! Se ne mi può! Eh! Sto fermi! Cosa Luca? Cosa si chiamano i paliatrisi leggeri che sono pesanti? La bassa gravità è onorevole! Non ho mai capito questa cosa! Mi servono munizioni! Subito! Mi prendo più di chiare, se fosse una Scorpion, che ne so, un Mpl, tipo... Mai un M60! C'è altri di più eh! Ok, basta, grazie Sara, grazie! Oh, adesso sono i punti per farle un po' di cassa! Adesso andiamo sulla terra! No, perché la cosa mi fa preoccupare... Poche munizioni! Pensa Nicolai! Pensa! Ok, ci sono! Aiuto! Sono secco! Hai ragione! È vero! Ragazzi! Le pesanti dovrebbero essere quelle tipo che sono sui tararmati, oppure che sono su delle torrette... Le gatti! Anche le gatti! Eh! Anche le gatti, non è vero! Penso che sono quelle grosse, grosse! Penso eh! Sì! Sì! Posso prendermi anch'io il bugger! Poi perché le cassa del GR! Ora gliela faccio vedere io! Luca, se hai bisogno di un bugger, vai! No! Volevo aggirarlo, perché dopo li prenderlo! Ma adesso è morto ragazzi, non c'è più... Non c'è più armi! Ok! E cammino come uno doppio! Ma io non c'è più punti! Tutti me li hai sprecati! Ragazzi! Dietro, dietro, dietro! Va bene che voi avete punti! Volevo si uccidere, ma... Noi poveri mortali, c'è io e ne ho qui! Dai, dammi un'arma forte! Dammi un'arma forte, ti prego! Ti prego! Ma va... Capum! Ok, andiamo! Ragazzi, dobbiamo andare a fare... Dov'è un munizioni al massimo quando c'è vento? Non ti dice vento! No, saranno là! Sarà, dove stai andando? Tu stai andando! Tu stai andando! Eh, su abitudine, sai! Eh, lo so, ormai si può andare su di lì! Anche se è andato di là, anche se volevo andare di là! Anche se hai visto tutti! No, adesso... Mi sono messo malissimo con armi! Quindi, filmate pure il bug, perché è carino questo bug! Io non l'ho mai visto! Magari è la prima volta! Sì, l'ho già filmato, tranquillo! Tanto ormai Leo è da un po' che sta registrando! Bene, ora, ragazzi, che abbiamo caricato la verga... Eh, no, saranno lo devi mettere adesso! Dobbiamo riempire il tubo! Eh, ah, ok! Adesso dobbiamo riempire il tubo, uccidendoli i zombie qua vicino, uccidendoli! E questo qui si riempirà! Quando sarà pieno, tireremo giù questa leva e apparirà una persona, che non vi dirò cosa, anche se sapete da chi è! Magari non lo sanno! Senti, ma che è la gente che non ha mai visto i video! Eh, beh! Eh, beh! Perché sono video introduzioni per la piaccia che non hanno mai avuto le cose! Ecco, altri, scrivi il titolo del video in maiuscolo! Lettera iniziale in maiuscolo, sempre! Beh, certo! Leo, ciao! Ragazzi, dai! Uccidio, dai! Vicino al tubo! Perfetto! Ok, io qui mi dovete provare il culo, perché io sono nella merda! Nella vera e propria merda! Ma la Weehan si dà danno? Anche io! Se la Weehan... A me no! A me non mi dà danno! Aspetta! No, non mi dà danno! Strano! Sono la Reagan, raga! Che schifo! Perché è esplosiva! Eh! È la Reagan ha danno esplosivo! Oh, tutti qua! Cosa sparate da lì? Eh, ok! Eh, li devo coprire! Allora! Eh, di shot! Che schifo! Che... Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti.